Tutti i giorni, su VH1, la perfetta colonna sonora delle tue giornate, solo su VH1, canale 167 del digitale terrestre. Edoardo è nato dopo una gravidanza difficile. Mi sono resa conto che allattavo Edoardo e non mi guardava. Edoardo ha la SCN8A, una sindrome genetica rarissima. Non vede, non parla e non cammina. Ma grazie agli specialisti della Lega del Filodoro sta entrando in contatto con il mondo. Chiama all'897 90 23 o vai su mondodisi.it e dona 9 euro al mese. Edoardo soffre di crisi epilettiche, cancellano con un colpo di spugna magari una tappa raggiunta. La Lega del Filodoro mi hanno fatto capire che Edoardo poteva fare. Edo ha iniziato a sorreggere il capo, imparata a giocare. La soddisfazione più grande è vederlo crescere dal punto di vista motorio. Chiama all'897 90 23. Bastano 9 euro al mese per garantire a Edoardo e a tanti altri bambini un futuro di progressi. Le cose da fare che scopriremo solo affiancandoci alla Lega del Filodoro che ci ha dato una speranza. Edoardo è il mio bambino. È la prima cosa che gli ho detto. Io non ero così pronta per un amore così grande. La vita di bambini come Edoardo è piena di incognite, ma insieme potremo farli uscire dall'isolamento. Chiama ora l'897 90 23 o vai su mundodisi.it. Diventa donatore regolare della Lega del Filodoro. Il Natale è fatto di piccole e grandi attese. Per i bambini con malattie genetiche rare e per le loro famiglie, l'attesa più grande è quella di una cura. Grazie a chi sostiene la ricerca. Matteo, Massimiliano, Giorgia, Sofia, stanno diventando grandi. Ci sono tante altre famiglie che aspettano il regalo più importante. Un futuro. Solo noi, insieme, possiamo donarglielo. Dona anche tu, ora. 10 euro al mese su Teleton.it Facciamoli diventare grandi. D'acqua, insieme, abbiamo già 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 Grazie a tutti.